La giunta regionale nella riunione che si è conclusa nella tarda serata di mercoledì 9 maggio su proposta del presidente Mario Oliverio ha approvato il piano anti incendio boschivo 2018. L'esecutivo preceduto da Oliverio con l'assistenza del segretario Ennio Apicella insieme ad altri provvedimenti in materia di bilancio, cultura, ambiente e agricoltura ha anche deliberato la costituzione di parte civile per l'udienza del 28 maggio prossimo nei confronti di Nicola Giancotti, Luigi Tornello, Giuseppe Tornello, Giuseppe Speziali ed Eli Mediterranea SPA tenuto conto dell'estrema rilevanza della vicenda penale in ordine al duplice pagamento per la stessa prestazione da parte della protezione civile in favore di Eli Mediterranea e, sempre su indicazione del presidente Oliverio, la costituzione di parte civile nel procedimento penale a carico di Vincenzo Cicciarello e altri. Tra le altre proposte del presidente Oliverio, la Giunta ha disposto anche la riorganizzazione del riassetto istituzionale del sistema integrato in materia di politiche sociali, l'istituzione e la nomina dell'osservatorio regionale per la formazione del medico specialistico, l'adesione della regione Calabria al sistema pubblico per l'identità digitale, il riconoscimento delle pratiche di pascolo come uso o consuetudine locale con l'identificazione delle aree regionali interessate. Tra le variazioni di bilancio proposte dall'assessore Maria Teresa Fragomeni è stata deliberata inoltre l'anticipazione nel bilancio gestionale 2018-2020 della somma di 455 mila euro per il settore attività di internalizzazione o cooperazione internazionale. È stata inoltre approvata la variazione compensativa di bilancio per contributi al Comune di Locri e alla provincia di Reggio Calabria per favorire la contrazione di mutui per la realizzazione del polo scolastico e per favorire l'accesso alla concessione di mutui da parte degli enti locali per la realizzazione di opere pubbliche.